Si merita quindi qui sul palco della Polocati Milano sta per salire Francesco Gabbani! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Come ho detto prima Stefano, fisico, so che tanti di voi vengono da lontano e quindi grazie di cuore io inizierei questa cosa nella semplicità più totale anche di queste cose tecniche che fa Scripp Scrock. Fa così, ecco, il cavo fa così, i cavi sono fatti anche per fare Scripp Scrock, però mi piacerebbe prima poi di raccontarvi il perché, intanto vi faccio questa domanda così, almeno mi dà un attimo il brividio. Quella canzone l'avete sentito prima, vi piace molto? Ma basterebbe così, potrebbe essere finito così, ma in realtà dopo, diciamo così, vorrevo iniziare con il maestro Lorenzo Bertellone. E questo qua che io l'ho conosciuto prima nel backstage, però sembra quasi che ci conosciamo da una vita, ecco, Filippo Gabbani. Così, a ripercorrere un po', se mi va, questa cosa qua che potremmo fare, partiamo da quelli che sono stati gli inizi e tipo io partirei con una roba che fa così. Alla porta i barbari, i scambi propiste, i spiccioli, sotto la corda, sotto la corda, sotto la corda, i trafficanti, i dogani, le grazie, i bagnali, sono di moda, sono di moda, sono di moda. Un visionario mistico all'università, mi disse l'utropia, ci salverà, a stevi come zidico per l'infelicità, adesso ormai è finita, figli, andate in pace. Amare il vento, nessun dissenso, di nuovo è tutto tace, è allora l'anticopolo, che se ne è un miracolo, elaboriamo il luto con un ame, ame, ame. È ricco, è un cascetico, ogni uomo è un spirito, dimentichiamo tutto con un ame, 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 ame. Un portamento atletico, un trattamento estetico, sono di moda, sono di moda, sono di moda, sono di moda, è un antor, è un monaco, è un armo del filosofo, un uomo alla corda, un uomo alla corda, un colpo di corda. Gesù si è fatto agnostico, i killer si convertono, un uomo è già in un uomo di santità, la folla è in coda, negli storie, l'inutilità, l'offerta è già finita, mi dice andà. E di pace, è un cascetico, nessun senso di nuovo, tutto tace, è allora l'anticopolo, che se ne è un miracolo, elaboriamo il luto con un ame, 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 ame. E l'uomo si addormentò nel sogno che crede il mondo, viveva in armonia con i vicini, i vicini, i pesci del mare, la terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza, non vera la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza. E poi si speriamo. E allora l'anticopolo, che se ne è un miracolo, elaboriamo il luto con un ame, ame, ame. Ci sei al Gabbagatei, è venuto adesso, questo è, qui stai. Gà, ci siamo, dimentichiamo tutto con un ame.